L'educazione per una corretta informazione contro il dilagare di fake news è una delle questioni centrali del nostro tempo. Per questo, alla vigilia del Safer Internet Day, giornata mondiale dedicata all'uso positivo di internet, il Consiglio regionale e il Core con Piemonte hanno lanciato un'iniziativa dedicata alle scuole superiori di secondo grado, che prevede la distribuzione ai ragazzi di un prontuario contenente le linee guida per distinguere la corretta informazione dalle fake news. Allo stesso tempo, gli oltre 176.000 studenti e studentesse in Piemonte avranno la possibilità di rispondere a un questionario online e di restituire al Corecom e all'Ufficio Scolastico Regionale una mappa che rappresenti la consapevolezza acquisita sul tema. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e con il patrocinio di Regione Piemonte, Città di Torino, Ordine dei giornalisti del Piemonte e Agicom. Stiamo cercando di introdurre un sistema per fare in modo che i giovani capiscano in automatico quali sono le disinformazioni, le fake news. Abbiamo voluto fare un'attività che avesse due funzioni. La prima è quella di aiutare i ragazzi a comprendere la differenza tra comunicazione e informazione e dall'altro avvicinare in mezzo di informazione accreditati gli organi di stampa ai ragazzi con un'attività comune. I ragazzi si intrattengono in misura molto maggiore su internet, utilizzano i device, utilizzano i computer, utilizzano i telefonini. Esiste la necessità da parte di chi li segue, cioè innanzitutto i genitori ma poi la scuola, di fare in modo che questi ragazzi abbiano in qualche misura una tutela. Tra le competenze a cui miriamo vi è quella di imparare ad imparare, quella di sapersi organizzare i contenuti, quella dell'uso consapevole di internet, quella della capacità di conoscere le norme sulla privacy e sul diritto d'autore. Dobbiamo trasmettere ai giovani la capacità di analisi critica rispetto alle informazioni che ci arrivano dall'esterno, ha commentato il presidente della regione Alberto Cirio. È necessario dare strumenti a ragazzi e ragazze per distinguere le informazioni dalle notizie false, ha aggiunto la sindaca di Torino Chiara Pendino. Per Laura Aria, commissaria Agicom, dobbiamo farci carico delle digital divide culturale, non pensando che i problemi si risolvano da soli. Oltre alle istituzioni, il Corecom ha voluto coinvolgere gli operatori del settore dell'informazione per consentire agli studenti di avere un ampio parterre di fonti da cui attingere e agli editori di poter entrare in contatto con migliaia di nuovi potenziali lettori. Entro la fine dell'anno scolastico il progetto sarà esteso anche alle scuole secondarie inferiori.